Vedete, un posto che inizia a tutti i giorni augurando al Leo, il vicepresidente del reso, anche a tutti i miei nostri amici. E grazie a tutti i miei rossi, non per la mani, a suo modo, basta, ma non ce ne è da bisogno. Perché, se ci farete anni, io mi preoccuperei, caro così, della sua maggioranza. Di una maggioranza che continua ad essere ablocante, che continua ad assopriare i ruoti istituzionali che non ci competono, continua a fare i giochi di potere, continua a dirgli, a dirgli, a dirgli, a dirgli, a dirgli che può, non stante, non stante, non stante. Una maggioranza che si è prisa di etica politica, di rispetto istituzionale, la connessione, questi, i consigli di potere, potremmo fare un'occhio di denuncia, una maggioranza che sta con maggioranza, non è, perché un secondo partito, una città, un partito importante, un partito importante, oggi dirige a un'opposizione, oggi attacca il suo stesso sindaco, l'incendio campo. Allora, guardate, nei primi anni di amministrazione, comuni, enti locati, regioni, province, devono necessariamente fare la programmazione, la pianificazione, lo sviluppo, devono mettere in alto tutti gli strumenti e lo sviluppo dei cinque anni, cosa che voi non avete fatto, cosa che non ci sa voi, che se la volete fare, vedete, questa città non può continuare senza il servizio del libro, voi dovete andare a dire, ecco, rispondate, c'è un consigliere pubblico, è il caderno tra l'altro della piastra dell'amministrazione, c'è un consigliere pubblico, c'è un consigliere pubblico, e io voglio solo dire che oggi è successo una cosa tra l'altro, e non la dico, è un consigliere, però non sa che ho detto, che il superito è un oggetto, dei risultati del pubblico, c'è un altro, trasconsi, 4 minuti, 5 minuti, quindi, hanno direttore di un po'. Non è che il sogno, io non sia il sogno, non dice il mio senso. Vedete, oggi dobbiamo imprezzare quello che ha detto, che i figuri che non mi comprensono sono delle possibili apposciali, come la vocale, che bisogna dire attività, che è stata fatta, che le persone si hanno chiamato sulle nomine, come si sono io, potete accattare su una voce a terra, e sottoscritto la presenza della selezione di San Saletto a rispondere a proprio lui, i propri contributi e i quantitivi che li staventiamo, grazie a tutti in aqui. Io basterei avere il ohio campo all'ordine del giorno. Recipite all'inizio a parte 4 minuti, a parte 4 minuti, a parte 4 minuti! Grazie a tutti! per influenziare